Il Paese civile deve avere meno tassi, una burocrazia più veloce al servizio del cittadino e poi una giustizia davvero giusta. I sei referendum che propongono il Partito Radicale e la Lega, su cui chiederemo un milione di firme degli italiani a partire da luglio, significano giustizia giusta, certezza della pena, chi sbaglia paga e fatemi dire che nel giorno della festa della Repubblica sapere che oggi è a spasso, libero, sorridente e festeggiante anche un delinquente, un assassino, un mafioso, uno spregevole personaggio come Brusca non può essere l'idea di giustizia che abbiamo in testa, quindi chi ammazza deve stare in galera fino alla fine dei suoi giorni, senza sconti e senza scorciatori. Le parole della sorella del magistrato Falcone dicono che questa è la legge, l'ha voluto a mio fratello. Questa è la legge, diciamo che siamo nel 2021, si può aggiornare la legge, perché chi ha sciolto nell'acido un bambino non può passeggiare libero per Palermo, per Roma o per Milano come se nulla fosse.